Dalle ordinanze ai fatti. Dopo le lamentelle di tanti cittadini, la polizia locale di Nocera Inferiore, su richiesta del sindaco Torquato, è intervenuta sul territorio per la lotta alle attività ambulanti abusive e a cattonaggio, identificando nell'ultima settimana diversi extracomunitari sprovvisti di qualsiasi tipo di autorizzazione. Sul corso Vittorio Emanuele sono stati identificati 5 extracomunitari di provenienza pakistana che vendevano senza autorizzazione cover di cellulari. La merce è stata sequestrata. Si sono registrati interventi anche sul fronte a cattonaggio, un fenomeno che non si placa, specie nel centro cittadino. Proprio nella giornata di ieri in Via Canale sono stati identificati alcuni extracomunitari di provenienza, soprattutto nigeriana, e un rumeno intenti a mendicare su pubblica via. Alle persone identificate è stata contestata la violazione dell'ordinanza numero 12 del marzo 2014 emessa dal sindaco al fine di combattere i fenomeni di cattonaggio abusivo.